Drastica caduta della spesa per il turismo in Italia. Nel 2020 i pernottamenti degli stranieri nel nostro paese sono diminuiti del 54,6%, quelli dei residenti all'interno dei confini del 32,2%. Sono le stime provvisorie di Istat soggette a revisioni relative ai principali aggregati del conto satellite del turismo del 2020. In un anno si è registrato un calo di oltre 63 miliardi di euro per il consumo turistico interno e di 31 miliardi per il valore aggiunto. che scende bene al di sotto dei livelli del 2010. 68 miliardi nel 2020 contro 80 miliardi. Il calo dell'attività turistica ha inciso per oltre un quarto sulla perdita complessiva del valore aggiunto registrata in Italia.